La vacanza all'hotel lungomare ha sempre i colori della festa ed è capace di sorprendervi continuamente. Sarete così i nostri ospiti nella cena romagnola sotto le stelle presso la nostra locanda ai girasoli. Un'altra serata esclusiva firmata alle Ardini Group per vivere in serenità un momento di relax e divertimento attraverso una serata dove la cura dei dettagli e i sapori della tavola sapranno ancora una volta sorprendervi. Momenti che si faranno ricordare liberi dal rigore di una cena formale pur mantenendo uno standard qualitativo d'eccellenza. Grazie per la visione!